uno fondo è sempre eccellente per il lato b allora portiamo le gambe destra in avanti ok scendiamo a piombo che proprio giù due tre e quattro adesso quando scendo giusto calcolando cioè concentrando sul tallone sotto di me ok anche di poco poco anche ok appoggia tutto il peso sulle gambe arteriore ok non quella posteriore concentrati tutto il lavoro davanti continuiamo facciamo 8 7 6 5 4 occhio 3 2 cambio ok concentrando sul tallone ok genocchio sotto il tallone leggermente anch'eggiata vedi leggermente anch'eggiata ok e spingi verso basso non verso alto sto spingendo giù 2 3 4 5 6 pronti cambio e 8 7 6 5 4 3 2 cambio 8 7 6 5 spingo giù 2 3 cambio 8 7 6 5 4 3 ricordi sempre verso basso e vai sono tallone, tallone, spingo giù, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop, affondi fanno sempre molto bene i nostri glutei e passiamo sul nostro prossimo esercizio. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo, ok? L'elastico è necessario, ragazzi potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che ne userai più, però la verità vai a un negozio sportivo, compri l'elastico perché pesa poco ed è una delle, diciamo, attrezzi igienici meno costose e più utili sulla pianeta Terra. Allora per fare i stacchi chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, vivare con le punte, a questo punto accorcia la presa sull'elastico più possibile e rimango inchinato con le gambe tese, schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporte, ma c'è un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai talloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio alla fine i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito, schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile accorcia la presa sull'elastico, continui ancora. Adesso rimani su, adesso schiacci i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok? Noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano, continui a schiacciare, continui a schiacciare e proprio loro si rilassano da soli e tu devi continuare a schiacciare avanti e scendo giù, due, giù, tre e giù, quattro, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti e teniamolo, otto, sette, sei, cinque, schiaccia, quattro, tre e facciamo l'ultimo, otto, scendo e schiaccio, due, schiaccio, tre, avanti, quattro, continui, cinque, schiacci i glutei in avanti, sei, sette e rimango su, tengo la posizione, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, piega le gambe, ricupero l'elastico, questo si chiamano stacchi, questo è il nostro booty camp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i gluti più tonici. Alla prossima esercizio, ciao! Io amo chiamare questo inchino alle corte, ma la verità è che è un incrocio delle gambe di fronte all'altro, il busto viene molto in avanti e sono sempre concentrato sul talone, ok? Perché quando ancheggio poco poco, ok? E se ti metti le mani proprio sul gluteo, senti proprio si va in tensione il gluteo e spingo verso basso, sempre non pensare di salire, non è una questione di salire, ma di spingere verso basso per attivare più le fibre muscolari del gluteo, continuiamo, spingiamo giù, due, tre, quattro, cinque, sei e ora cambiamo, dall'altra parte, inchino verso basso, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, dammi un altro otto, altro otto ancora, spingo verso basso, spingo verso basso, spingo verso basso, abdominare, rimangono pesi e tutto peso sta sulla gamba anteriore, cambiamo, e giù, due, tre, quattro, cinque, inchino, poi più ti inchini, più spingi sul talone, più senti lavoro, più spingi verso basso, più senti proprio i vostri glutei che si attivano, ok? Nostro booty camp, ok? Trenta giorni di esercizi proprio per totalmente trasformare il nostro lato B, continuiamo, due, tre, e quattro, cinque, sei, sette, otto, spingo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, continui, 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 otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, eccellente, un altro esercizio fatto insieme e ti aspetto il prossimo esercizio, ma mi raccomando, lavorate, 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 giorno dopo giorno, tutte e con la costanza, tutto possibile. Altro esercizio di booty camp, di nuovo, leghiamo le nostre caviglie, le nostre caviglie belle, strette, non troppo strette, devi avere abbastanza elasticità, fate un bel fiocco e cominciamo a fare il passo del granchio, ok? Ricordate che il punto delle piedi deve rimanere frontali, ok? Adesso qui potreste sentire un po' sulle ginocchia, allora è importante di non divaricare le punte, tutto rimane, diciamo, frontale e parallelo, ok? Vai, vai, ancora, vai, vai, proprio laterale, questo ci aiuta l'esterno coscia, gran gluteo, continui e spingo, vai, continui, vai, laterale, vai, laterale, queste le senti tantissimo, mi piace tantissimo così, proprio per modellare l'esterno coscia, il nostro booty camp è un bel allenamento insieme, mi raccomando, tutti i giorni fate questi allenamenti dedicato al, che cosa? Lato B, ecco perché si chiama booty camp, si, continui, andiamo, continui, continui, andiamo, facciamo l'altro 8, altri 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop, l'hai sentito no? Bellissimo allenamento, ti aspetto al prossimo esercizio del nostro booty camp, leghiamo le ginocchia, ok? Questo esercizio potrebbe anche essere fatto senza l'elastico, volendo, ok? Perché questo può essere fatto colpo libero, però con l'elastico ancora meglio, andiamo al capestare sotto, ginocchio sinistra, l'elastico, così è bloccato e comincio a sollevare le gambe a un angolo retto, ok, su, spingo, spingo, ancora, come se stessi provando di tenere, diciamo, a lasciare le impronte del tuo piede sul cielo, sul soffitto, sopra di te, sopra di te, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso incrociamo sopra in diagonale, ok? Incrocio sopra l'altra gamba e vado in diagonale per sollevare, ok? 4, 3, tiri con l'elastico, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, non usare la schiena, ottima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambiamo la gamba, calpesto, ok? Calpesto, sollevo l'altra gamba, 3, 8, su, tira, tira, ancora, 2, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso in diagonale, giù, in su, 2, 3, 4, 5, 6, schiaccia il gluteo quando sali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, bravissimi, 4, e 3, e 2, e relax, eccellente, un altro esercizio fatto con il nostro booty camp, adesso passiamo al prossimo esercizio insieme. Bentornati a booty camp, adesso andiamo a fare uno nuovo esercizio insieme, perfetto per il nostro esterno coscia, allora legate le vostre genocchia, portate l'elastico sopra le vostre genocchia, rimanete sulle punte, portate il busto in avanti e comincia a divaricare le genocchia, ok? Divarica proprio per lavorare sull'esterno coscia e sui glutei, yay! Booty camp, nuovo esercizio proprio dedicato al vostro lato di 30 giorni insieme per questo mega galassico allenamento dedicato a che cosa? Il lato di delle donne, continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, teniamolo fuori, aggravati l'elastico, proprio darti ancora più resistenza, tira, tira, tira proprio però non chiudere le genocchia, tieni di te proprio in tensione, continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 2, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, tira, tira, 4, 3, 2, rimani fuori, busto dritto, schiena dritta, ok? Portati leggermente in avanti, divarica, tieni la posizione, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima serie, 3 in movimento e poi lo teniamo in isometria, ok? 4, 3, 2, 1, ancora 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go, go, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e tiro, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, ottimo! Passiamo sul nostro prossimo esercizio di Booty Camp!